Questo capitolo scorre che è una meraviglia, sono 14 pagine, ma è come se fossero 5. Il finale poi ci fa capire la situazione pericolosa che si sta vivendo su EGAD. Tra chi indaga sui segreti del mondo, chi discende da razze perdute e chi desta antiche divinità, quest'isola è piena di problemi. Buster Call! La detela al suolo in nome della giustizia. Queste sono le parole di Saturn. Questo è quello che sta succedendo su EGAD. Parliamone subito! Lo commenti anche tu! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video. Grazie mille per i vostri acquisti attraverso lo shop. Siamo davvero molto contenti che i prodotti vi sono piaciuti e che state continuando ad acquistare. Ci sono ancora prodotti disponibili, sono pochi perché grazie a voi avete polverizzato tutte le scorte. Per chi ne volesse sapere di più trovate il link nella descrizione del video. Inoltre mi piacerebbe invitarvi ad una live domani pomeriggio dalle 16 alle 17 perché facci il compleanno e mi piacerebbe passare del tempo con voi. Quindi se non avete nulla da fare siateci per un brindisi virtuale. Nella cover del capitolo si parla dell'anime di Monster che sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 gennaio. Arriverà in contemporanea in tutto il mondo e sarà anche doppiato in italiano. Ne parleremo insieme con un video appena lo vedremo. Ma adesso addentriamoci nel capitolo 1104 di One Piece. La cover è una cover a richiesta. Sanji porta il dessert a due topi mentre vediamo il topolino fare una proposta di matrimonio alla topolina. È molto simpatica e fiabesca come cover. Anche questa settimana quindi non assistiamo all'inizio di una nuova mini avventura. Ma continuiamo con le cover a richiesta. Eppena nella prima volta che Oda disegna nelle cover a richiesta Sanji associato a dei topolini. Ricordiamo infatti nel passato di Sanji che erano presenti dei topi ma anche su Onigashima abbiamo visto un topolino. Quindi Sanji e topo, cibo, cucina, topo, a Oda piace parecchio disegnarli. Vedere Bonny con la sua verità le lacrime agli occhi, ritrovare suo padre, dirgli che ha visto i suoi ricordi e che ha letto le sue lettere fa emozionare tantissimo. I due hanno sofferto molto e questo incontro è davvero toccante. Volevamo partire con questa premessa, ora torniamo indietro. Il pugno di orso a Saturn è liberatorio. In quel pugno ci sono anni e anni di ingiustizie, di torture, di sofferenze. Poi tutto ci viene mostrato con un'incredibile doppia pagina spettacolare. Dopo il flashback che abbiamo letto, un po' tutti abbiamo atteso una doppia pagina del genere. E Oda ce l'ha data. L'avevamo immaginata tutti. E vederla così, realizzata, disegnata e soddisfacente. Mentre viene dato il pugno, il manga ci mostra diversi ricordi di orso. Anche se tutto è stato eliminato dal suo corpo, sembra quasi che qualcosa sia riemersa lo stesso. Orso sembra aver recuperato qualcosa e agisce non solo contro Saturn, ma anche per proteggere Bonnie. Il pugno ricorda molto quello che Rufi ha dato al drago celeste. Abbiamo la stessa scena, ma in scala più ampia. Stavolta prendersi un bel pugno in faccia è un astro di saggezza. Per il mondo, l'astro di saggezza è uno dei massimi esponenti del governo mondiale. Quindi, il fatto che Orso dia un pugno ad un astro di saggezza è un gesto di un'importanza spaventosa. Un fatto eclatante. Scandaloso. Possiamo dire che Orso ce l'ha fatta. Ha realizzato, senza nemmeno accorgersene, il suo desiderio più grande. Infatti, ha combattuto come Nika. Ha lottato per la liberazione. Ha compiuto, infatti, lo stesso gesto che ha fatto Rufi. Ha colpito un membro del governo mondiale per proteggere gli altri. E noi sappiamo che Rufi è Joy Boy. Che Rufi ha i poteri di Nika. Per cui Orso, sì ragazzi, ha combattuto proprio come Nika. Qui abbiamo un bellissimo colpo di scena. Vegapunk ha realizzato quel pulsante per fermare Orso. Ma non lo ha fatto per autodistruggerlo. Non ha messo una bomba dentro Orso. Non voleva, infatti, che Orso venisse utilizzato come kamikaze. Come arma suicida. Vegapunk ha rispettato l'ordine di Saturn. Ma ha creato un pulsante per fermare Orso. Per disattivarlo. Fargli cessare qualsiasi tipo di attività. Impedirgli di eseguire qualsiasi ordine. Ma senza distruggerlo. Senza farlo esplodere. Nel video spoiler abbiamo fatto l'esempio con i cyborg di Dragon Ball. Nessuna bomba, quindi, come C16. Ma un telecomando per la disattivazione. Come quello creato da Bulma per disattivare C18. Quello che poi Krillin ha distrutto perché si è innamorato della ragazza. Quello che colpisce è il fatto che Saturn ha già premuto quel pulsante per disattivare Orso. Lo ha premuto quando quest'ultimo è stato portato via da Mary Joa. Mentre si trovava con i rivoluzionari, Orso ha ripreso a muoversi istintivamente. È partito. È andato a Mary Joa. E poi è arrivato a Eged. Il comportamento di Orso non trovava una spiegazione. Ci chiedevamo perché proprio da quel momento avesse cominciato a muoversi. Ad agire di sua volontà. Senza che nessuno gli avesse dato alcun ordine. Ora troviamo la risposta. È stato Saturn che ha premuto il pulsante. Anziché fermarlo, definitivamente qualcosa è cambiata in Orso. Secondo il ragionamento di Vegapunk, tutto questo è successo perché Orso appartiene alla razza dei bucanieri. Vi ringraziamo per tutte le iscrizioni degli ultimi giorni. Adesso puntiamo dritti ai 77.000. Se ancora non sei iscritto, fallo subito. Grazie mille ragazzi. A quanto pare la forza fisica non è l'unica caratteristica dei bucanieri. C'è dell'altro. Ma lo scienziato non rivela cosa e noi ci chiediamo cosa potrebbe essere. Come abbiamo visto nel personaggio di Orso, questi si è dimostrato un personaggio di una bontà assoluta. Forte nelle sue convinzioni, pieno d'amore nei confronti del prossimo e con tanta fede. Questo dimostra che oltre ad essere forti fisicamente, probabilmente i bucanieri sono forti emotivamente. Per questo motivo forse la scienza non è riuscita a cancellare del tutto la sua coscienza. Magari non subito con l'attivazione del pulsante. Possiamo azzardare dicendo che se tutto questo fosse stato fatto ad un essere umano normale, magari non avrebbe avuto alcuna speranza. Orso invece riesce a conservare ancora qualcosa della sua personalità. Orso però, dopo aver abbracciato Bonnie, non si muove più. Raggiunto il suo obiettivo, potrebbe aver davvero perso ogni briciolo di coscienza? Oppure è solo stanco? Vegapunk lo fa riportare alla Labo Face da Atlas. Magari con il tempo qualcosa piano piano comincia a riemergere. O magari questa è proprio la fine di Orso. Difficile dirlo, in ogni caso tutto questo ha dato l'occasione a Bonnie e Orso di riabbracciarsi ancora una volta. La figlia ha avuto modo di dire al padre le sue ultime parole. E' emozionante vedere Sanji e Frankie lanciarsi all'attacco verso Saturn per proteggere Bonnie e suo padre. Frankie dice che i Mugiwara devono la propria vita a Orso. E questo è vero. Orso li ha salvati a Sabaudi e ha protetto la Sanji fino al momento del loro ritorno. I Mugiwara non possono permettersi di abbandonare Orso. Non possono permettere che venga fatto del male a Bonnie. Kizzari in questo capitolo è molto amiguo. Lo vediamo infatti dispiaciuto per tutta la situazione. Ma continua a lottare contro i pirati. Continua ad essere fedele al governo mondiale. Vegapunk gli dice che è senza cuore e lui risponde che avrebbe dovuto mettere gli occhiali più scuri. Questo ci fa pensare che vorrebbe piangere e quindi vorrebbe nascondere la sua tristezza. Elemento importante è il fatto che Rufy è scomparso. Non si trova da nessuna parte. Probabilmente sta recuperando le energie per poi ripartire all'attacco con il Gear Fifth. In ogni caso non si può stabilire da questo capitolo se ad aiutarla a mangiare è stato Kizzaru o qualcun altro. Certo Kizzaru è strano, potrebbe averlo aiutato di nascosto. Potrebbe essere stato questo il suo contributo, il suo supporto nei confronti di Orso e Bonnie. Fatto sta però che non si capisce. La situazione è molto ambigua. E c'è da dire che Kizzaru sembra proprio essere pronta a morire a favore del governo mondiale. Nonostante tutto non si tira indietro. Anche se questo significa lottare contro persone a cui ha voluto bene. La situazione per il governo mondiale è critica. Viene dato l'ordine del Buster Call. Uno degli attacchi più potenti di cui dispone il governo mondiale. Su quell'isola c'è Nika. Ci sono conoscenze segrete. C'è Vegapunk che ha tentato di indagare sui segreti del mondo. C'è un membro dei Bucanieri. Per il governo mondiale quest'isola varrà salsuolo. Ci pensi che se Nico Robin riesce a sopravvivere a questo Buster Call ne ha visti ben tre. O'Hara, Annie's Lobby e adesso è Gadd. Riuscirà a farlo sicuramente. Ricordiamoci che dobbiamo ancora scoprire in cosa consiste l'incidente di Eged. L'isola verrà da salsuolo davvero? C'è il Punk Records. C'è tutta la conoscenza di Vegapunk. Lo scienziato geniale non può rinunciare al suo sogno. Il Buster Call non può eliminare tutto. L'isola quindi probabilmente non verrà distrutta. E poi c'è l'antico robot gigante che probabilmente si alzerà presto. C'è Rufy con i poteri di Nika. Con tutto quello che vi abbiamo detto è probabile che a subire un attacco micidiale sarà proprio il governo mondiale. Probabilmente sarà Saturn a portare a casa una sconfitta. Il governo mondiale, se le cose andranno così, verrà umiliato perché una delle sue armi più potenti, il Buster Call con cui ha insabbiato la storia in passato e tolte di mezzo tutte le isole più scomode, questa volta potrebbe fallire miseramente. Il governo mondiale potrebbe fallire contro l'imperatore Rufy. O peggio, potrebbe fallire contro il suo acerrimo nemico, ovvero Nika, Joy Boy. Un incidente è quello di Eged che potrebbe segnare il governo mondiale fino alla fine del manga di One Piece. Ma con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima ragazzi! Alla prossima!